ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di contatori del tempo un altro episodio dedicato alle vostre collezioni ed eccoci qua con un altro episodio dedicato alla reaction ai vostri video cioè cos'è praticamente voi mi mandate il video con la collezione dei vostri orologi e noi qua tutti assieme li guardiamo per la prima volta commentiamo cerchiamo di capire qual è il vostro percorso in questo simpatico hobby e cerchiamo anche di capire come vi rapportate con l'oggetto orologio l'oggetto orologio che è un oggetto di per sé freddo glaciale senza anima però quelli senza anima sono quelli a batteria ricordatevelo quelli con gli ingranagini che girano hanno un minimo di spirito che li fa andare avanti che li fa vivere ci li fa sentire come se fossero no vivi ok dopo queste castronerie vi mostro l'orologio del giorno che è questo bellissimo omegacy master professional il diver 300 metri di casa omega con un diametro cassa 42 mm inserto ghiera in ceramica quadrante in ossido di zirconio calibro con scappamento quassiale e che più ne ha più ne metta perché quasi su livelli eccessi è un gran bello orologio che a me piace e che indosso con piacere e voi direte chi è piacere è con piacere lo indosso lo indossiamo insieme adesso primo video prima che vien tardi dai su primo video ciao davide ciao lorenzo un appassionato di orologi oggi farò vedere alcuni orologi della mia collezione e voglio cominciare subito con questo seiko operanza 66 02 80 70 del 1973 carica manuale cassa in acciaio dovrebbe appartenere alla linea sportsman ma non ne sono sicuro in quanto non ho trovato nulla sui cataloghi dell'epoca che attesti che faccia parte di quella linea ma credo che ne faccia parte perché monta lo stesso calibro tipico degli sportsman e anche lo stesso design degli sportsman uno dei miei preferiti soprattutto anche per il calibro che è davvero molto bello e poi bello anche il design ora ecco proprio mi prendi proprio alla sprovvista perché io sui seiko vintage addirittura proprio zero cioè tanto così proprio tanto così ne so quindi io mi affido completamente alla tua descrizione a quello che dici cioè a questo orologio che hai mostrato mi veniva voglia di dargli il top no poi mi sono un attimo trattenuto perché perché sono convinto che poi dopo devo dare il top a tutti gli altri vintage che saltano fuori e c'è tutto un top allora perdo anche un po di valore però tanta roba la forma della cassa era veramente saporita come si suol dire proseguiamo perché vedo che anche lunghino sto video è venendo in casa seiko a nel moment la riferiamo di nuovo perché non ho fatto un commento sulla 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 tovaglia qua c'è una tovaglia con i fiori stilizzati che ti però ti sei premurato anche di coprirla con un con un simpatico panno per insomma per pudore per pudore per non partecipare alla competizione ma l'abbiamo vista la tovaglia con le con i fiori e vai così c'è questo seiko 5 riferenza 61 19 74 30 e bracciale automatico con il calibro 61 19 è stato recentemente restaurato mi piace molto questo design tipicamente anni 70 anche lui del 1973 mamma mia e gli ho abbinato questo bracciale bracciale rally che lo rende ancora più sportivo per me è bocciato per me ci stava bene un bel centurino di quelli in cuoio vintage cioè veramente non mi piace infine finiamo con i giapponesi andando alla concorrenza con questo citizen crystal 7 che appunto nacque per fare concorrenza ai seiko 5 anche lui è anni 70 precisamente del 1970 lui monta il suo bracciale originale quello che dovrebbe avere da catalogo design molto bello con questo quadrante che alla luce da riflessi davvero molto belli e poi con questa cassa tonno che è davvero molto molto bella molto molto bella adesso ti porto in india con due hmt o partiamo da questo per non vedenti appunto al quadrante braille la persona che lo indossava non doveva fare altro che aprire la parte superiore della cassa posare il dito sulla lancetta e scorrere fino a carattere braille in corrispondenza questo è degli anni 60 ed è uno degli hmt più difficili da trovare perché molto spesso vengono smontati per assemblare dei franken con quadranti che non sono mai stati prodotti da hmt capito rimanendo sempre con gli hmt c'è anche questo del 1969 anche lui bello vissuto vintage spettacolare per questo quadrante che va dall'azzurro al bianco alla luce poi da dei riflessi particolari davvero belli per chi non lo sapesse hmt è un marchio di orologi autoctono indiano sono proprio indiani no e sono famosi perché a volte li perculiamo per quale motivo perché vengono dai bei ci arrivano orologi marchiati e che metti che hanno la più disparata foggia no vengono franken watch vengono fuori no quindi non si sa mai cosa si sta comprando se però si riesce ad avere degli orologi hmt di quelli genuini hanno anche un senso ha un senso averli possederli in collezione perché rappresentano un marchio indiano di orologi ok tutto sta nel sapere quali sono veramente gli orologi che hanno prodotto poi come diceva lui prendono le casse degli hmt magari ci mettono dentro anche un un calibro secco un quadrante secco 5 inventato e te lo vendono come secco 5 c'è tutto questo ambientino lì è questo punto volevo sfatare un mito sui hmt non è vero che sono tutti franken ma bisogna considerare che la maggior parte vengono disassemblati per assemblare appunto dei franken o dei falsi ma nella maggior parte dei casi viene solo sostituito il quadrante con quadranti che non sono mai stati prodotti dalla casa madre inoltre bisogna anche dire che ci sono molti hmt di produzione moderna che hanno quadranti molto particolari che appunto sono fatti apposta per prendere in giro i franken addirittura mamma mia adesso porto in cina portami in cina due pezzi molto particolari partiamo da questo shanghai shanghai uno dei marchi storici in cina mi sembra che ho fatto anche una recensione io di un shanghai moderno ecco qua i marchi cinesi che hanno senso di esistere che c'è che hanno un certo appeal per me sono questi marchi che hanno sempre costruito orologi da tempo in memore orologi come questo qua shanghai oppure dei sigal no sono marchi che fanno orologi e non sono quei marchi cinesi che invece creano cloni e copie degli orologi ma con una propria identità con una propria ragione di esistere bravo ci ha già fatto vedere gli hmt indiani e shanghai cinese cioè c'è proprio questa particolare propensione per i marchi dei paesi in via di sviluppo diciamo così bravo è uno dei primi marchi che ha prodotto orologi interamente progettati e assemblati in cina e questo qui nello specifico è la riedizione degli shanghai a 581 gli shanghai a 581 assieme ai vi furono i primissimi orologi prodotti in cina e appunto shanghai per celebrare l'anniversario della loro introduzione ha deciso di riprendere a produrli utilizzando gli stessi macchinari e le stesse tecniche che usavano negli anni 50 tra l'altro non sono nemmeno stati ridimensionati hanno mantenuto le dimensioni che avevano negli anni 50 penso siamo 38 millimetri quindi per gli anni 50 erano anche oversize è davvero molto bello poi alla luce il quadrante riflette davvero molto bello 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 è uno dei miei preferiti tra i cinesi che ho e poi andiamo con un altro pezzo particolare che è questo onki onki ed uno dei marchi della fabbrica di shanghai citata prima questo qui ha come particolarità questa lancetta dei secondi al razzo questa lancetta dei secondi anche una spiegazione negli anni 60 onki per omaggiare la missione spaziale di cagarin progettò questo orologio i cui secondi vanno a simboleggiare i giri d'orbita che ha fatto gagarin attorno alla terra questo modello qui prende ispirazione dal modello vintage appunto omaggiandolo è uno dei miei preferiti poi guardare questa secondina mi ipnotizzo ogni volta e poi un quadrante anche davvero molto bello e minimale che appunto da risalto alla lancetta dei secondi bello assai ora io la prima volta che vedo una lancetta dei secondi fatta così ditemi quello che volete che sono ignorante che non sono un esperto né ma io la prima volta che vedo una lancetta fatta così e presumo che i secondi si legano sulla punta della navetta spaziale no poi è uguale un basta prendere un riferimento se lo voglio prendere a metà metto a zero metà cioè basta prendere il riferimento bello simpatico una cosa originale da avere visto io stavo pensando mentre lo guardavo però se la lancetta dei secondi fosse stata dritta sarebbe stato un orologio di quelli proprio un bel dress watch con quella lì diventa un po da luna park però capisco bene che in una collezione avere un pezzo così particolare fuori dalle righe no senza però essere sfacciato ha un bel senso bravo bravo adesso ti porto in unione sovietica voglio partire con questo pabieda del 1950 prodotto nella prima fabbrica di orologi di mosca i pabieda sono gli orologi più rappresentativi della produzione sovietica sono quelli che sono stati prodotti per più anni sono stati introdotti nel 1945 e hanno smesso di produrli nel 2006 scusami poi monta un classico calibro 2602 anche se quello della prima fabbrica di mosca si chiama 26k questo calibro deriva dal più noto lipp r25 perché negli anni trenta l'unione sovietica ebbe la licenza da lipp per macchinari maestranze calibri e due dei calibri che diedero la produzione più bella furono appunto il lip r25 e il lip t18 dal lip r25 derivano i pabieda e poi tutti gli altri marchi che hanno sfruttato lo stesso calibro modificandolo mentre dal lip t18 che è un calibro di forma derivano gli svesta come questo qui questo qui al quadrante che è stato dipinto a mano e degli anni cinquanta e come detto prima il suo calibro che lo svesta 1802 deriva dal lip t18 il quadrante è stato dipinto dal suo primo proprietario probabilmente perché appunto in unione sovietica si usava regalare degli orologi per poi farli personalizzare a chi si laureava all'accademia di belle arti oa chi iniziava la leva militare obbligatoria ultimo orologio della mia raccolta è questo cama della fabbrica di cisto paul che ho restaurato io personalmente ci monta il calibro vostro con 2603 che deriva dal calibro del pabieda di prima è l'unica differenza è che questo calibro a 17 rubini e che ha pure l'anti shock sul bilanciere non so se si vede bene ma questo qui ancora il lume originale sovietico di questo azzurro molto bello e anche il quadrante guillo scè questa è la mia raccolta e spero che ti sia piaciuta se basta ciao nemmeno saluto niente vabbè qua abbiamo fatto un bagno di cultura ci siamo immersi nel sapere questa persona qua sto appassionato qua sto amico del canale sa le cose le sa ci ha mostrato orologi indiani cinesi e russi proprio tre aspetti dell'orologeria che quasi mai vengono toccati perché noi siamo siamo un po più superficiali noi rolex vediamo queste cose qua e ci viene una bavetta ma ci sono anche questi aspetti qua sto anche storici no pensate un po quando uno si laureava prima di partire per il militare dipingevano il sapere cioè sapere tutte le cose nell'orologeria è impossibile è bello quando vediamo qualcuno che le cose le sa magari settorialmente come in questo caso però ci ha mostrato tre tipi di orologi di tre nazioni differenti grazie per aver condiviso con noi la tua collezione prossimo video ciao davide complimenti al canale grazie da pisa e ti volevo mostrare la mia piccola raccorda d'orologi e vai ora è appena tre anni che mi sono avvicinato all'orologeria meccanica e la verità proprio grazie ai tuoi video infatti il primo acquisto che feci tre anni fa proprio da pasquale domenici è perché ho visto questo orologio in un tuo video il mai se la croat icon è una classica quadrante antracite in nata durati e niente questo reloge qui lo conosciamo tutti la qualità stupefacente per certo che viene proposto ma certo è bellissimo bellissimo poi un altro orologio della mia collezione questo lamberto l'orologio ai è un cronografo e col movimento sigal st 19 infatti cercavo un orologio con questo movimento però non volevo comprare il solito cinese tramite un forum sono venuto a conoscenza di questo assemblatore italiano che praticamente compra i calibri li smonta li lubrifica e li regola e poi l'incassa dandoti una certificazione e devo dire la verità fino a ora non mi ha mai deluso è un orologio che scarta da dai più quattro ai meno tre al giorno veramente regolato veramente veramente bene meno male e poi comunque anche come rifiniture come vetro è un bello orologio soprattutto per la cifra a cui viene venduta per quello che mi ha dato sapere lamberto orologiai è un assemblatore nel senso che gli orologi che propone poi se voi li guardate basta andare anche a cercare con google immagini no poi vedete che ci sono altri marchi che li propongono pari pari c'è stessa cassa stesso tipo di di vetro ghiera corona sono quelli sono orologi da catalogo nei quali lui fa questo lavoro qua e assembla lì nel laboratorio però non è niente di eccezionale poi un altro orologio è un ricordo del mio nonno bello questo omega si master al quarzo questo l'ho fatto revisionare cambiare il vetro perché era apparecchio ricato il cinturino naturalmente non è il suo il bambino rovinato a verde città un placato 20 micron fondello in acciaio corona originale e questo è stato regalato dalla mia nonna al mio nonno che poi mi è stato tramandata a me bravo un altro orologio che metto spesso anche al lavoro è questo 6.5 essi sa che questo è un orologio che vista e rivisto ce l'hanno quasi tutti ciao a tutti come dice la mia amica poi un orologio che mi ha tenuto compagnia quest'estate per quasi tutta la tutto il periodo è questo citizen volume pro master pro masterone bello morto anche questo orologio che non ha bisogno di presentazioni sai cosa dire tutti veramente iconico iconico non sa cosa dire dice non c'è bisogno di presentazione poi anche quest'altro citizen è un orologio che porto spesso 46 sto qua anche questo questo è un regalo grosso ha un bel quadrante con dei bei riflessi molto molto bello poi altro orologio che ho deciso di comprare non tanto per la qualità del calibro delle rifiniture ma per due motivi uno era la ghiera questo insetto ghiera che ha un effetto veramente vintage sembra in zaffiro in realtà è resina e poi per come sono applicati gli indici è veramente particolare essi sembrano dei diamantini incassati sul quadrante questo ma ma convinta a comprarlo è veramente un quadrante particolare questo burlavo scenografe bell'orologio bracciale pieno va bene da gari viene venduto a cifre un pochino alte però vabbè comunque sia un orologio anche questo iconico riconoscibile una bella cassa soprattutto una bella lunetta ghiera va bene da veloce su poi ho comprato ultimamente questo seico samurai versione padi ghiera in ceramica a questo bel quadrante non so se riesco a farlo vedere molto molto bello che praticamente riprende l'increspatura della superficie dell'acqua e man mano che si va sul fondo diventa un blu degradé sempre più scuro anche questo bellissimo orologio orologio è una bella cassa cinturina in gomma va bello poi un altro acquisto è questo tudor black bay top 41 questo anche questo è un orologio che comunque che se ne dica dello spessore io ho un polso da 18 e per un diver sul mio polso va va benissimo questa versione da 41 ma si e anche questo è un bellissimo orologio io lo metto anche con abiti eleganti senza nessun problema va bene puoi fare quello che vuoi e per ultimo speed master questo merito omega speed master versione vetro in esalite e niente anche questo te lo conosci benissimo in quanto anche te hai preso la versione vetro plexi no e scusa vetro zaffero attenzione e questo niente stupendo ma convinto di più il vetro plexi per via dei dei riflessi che fa sul quadrante e quando viene colpito dalla luce ha veramente delle distorsioni anche si vede sulla curvatura del plessi veramente veramente belle va bene e su questo ti volevo fare una domanda a me ho letto che molti possessori di omega speed master praticamente la lancetta cronografica dei secondi quando arriva a 59esimo secondo che dovrebbero scattare dovrebbe scattare il minuto cronografico a tanti il minuto cronografico scatta prima di quando la lancetta arriva su 60 secondi praticamente pochi decimi di secondo prima già è scattato il minuto questo crea comunque una difficoltà nella lettura perché se uno va a leggere stop all'orologo il cronografo a 59 secondi e lì praticamente il quadrantino dei minuti segna già uno e quindi potrebbe potrebbe sembrare un minuto e 59 secondi invece sono 59 secondi vuole sapere se te nel tuo avevi notato questa cosa io in questo modello qui facendo uno slow motion un video slow motion dei secondi cronografici praticamente ho notato che scatta qualche decimo di secondo prima anche su questo modello qui il minuto cronografico non solo per il primo minuto provato a lasciarlo andare per diverso tempo e praticamente la lancetta del secondo cronografico quando arriva 59 già ingaggia quella del minuto e scatta prima che arrivi sul 60 niente fammi sapere anche se hai riscontrato questa particolarità e ti ringrazio ancora e love 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 si lo fa anche nel mio non è 59 è veramente 59,8 praticamente un segmentino prima del del 12 no è già partita quell'altra quindi se per assurdo uno fermasse il cronografo in quel momento lì e va a leggere gli dice 1 e 59 e in realtà no è solo 0 e 59 se è un incongruenza che c'è che bisogna farselo andare bene così d'altronde è così non so cosa dire poi bene resto belli orologi è praticamente tutti carini da maris lacroix il tudor lì che è spesso ti diceva bene spesso e ognuno decide quello che indossare no anche io orologi spessi c'è c'è per tutti i gusti comunque se è promosso il discorso sull'omega screen massimo lo fa anche a me lo farà tutti credo è così nativo così ciao davide ti mando questo video dalla svizzera per condividere con te la mia collezione di orologi lei è frida frida ciao frida frida questo è l'ultimo entrato in collezione mido ocean star bello assai tip top bello bella hai visto si lungi master collection quei numeri romani che te non piacciono no però tanto secondo me ci sta ma certo anche bellino da con quel cinturino lì mi piace da un orologio classico col nato insomma però tisso prx prx ormai tutti conosciamo con best buy diciamo così jean richard paramount che roba acquistato di seconda mano infatti c'è qualche segnetto dovrebbe essere base sellita 300 con complicazione cronografica dubois de pra ok non conosco non lo conosco strano si certina ds1 con i piccoli secondi ad ore 9 semplice pulito certo bellino sto qua mi piace 39 mm se non sbaglio lui e rard o lui e rard anche questo con i secondi a 9 vere azzurrate in edizione limitata di 500 pezzi cinquecento pezzi cinquecento calibro sv 200 200 200 simpatico ed infine baltic bronzo con la sua bella patina baltic acquascape bellino dai anche sto qua miota serie 9000 un quadrante che ormai sono rientrato col telefono morto con la luce non naturale non rende chissà che idea ma bellissimo bello da simpatico finito grazie per i saluti per aver speso due parole pubblica ma non pubblica ma fatto un po così questo video è verticale fatto con i piedi ma lo pubblichiamo da svizzera almeno sembreremo internazionali hai capito meglio l'orologio nulla da dire evidentemente certina si in svizzera si trova dai venditori autorizzati cosa che in italia non avviene perché non è importata del gruppo swatch non importa certina in italia poi il resto baltic lì in fondo carino ho visto però mi sembra il vetro veramente cupoloso secondo me con un bel vetro piatto ci sarebbero stati meno riflessi sarebbe stato più accattivante comunque si è promosso non serve che rimandi un altro video te e frida in verticale che stanno se ne può più va bene prossimo video ciao bro sono Sal da Abrienza ciao bro qualche giorno fa avevo scritto appunto che guarda che combinazione abbiamo la stessa magnetta tac e lo stesso siamo gemelli noi davide questo è il primo cos'è è praticamente un vetro limitata un bell'orologio eh sì bellino però da 12 13 anni circa e volevo farti la mia prima domanda subito così praticamente l'ho portata a revisionare in un centro rolex perché aveva già avuto passati un po' di anni mi è costato 400 euro volevo appunto sapere da te se è stato una rapina o quello che che si chiede una serie limitata che è stato ma ora se è una rapina cioè queste cose qua uno le fa prima di portarlo l'orologio no giri vari orologiai ma non per trovare il prezzo migliore giri vari orologiai che siano competenti dovresti avere anche almeno uno di fiducia due tre quattro no senti che una revisione per un 77 50 quanto ci vuole devo a questo questo quell'altro e ti fa un'idea se te vai direttamente nel centro rolex che poi non si capisce perché vai nel centro rolex perché ci avranno l'orologiaio lì dentro e magari si fanno pagare di più solamente perché c'è scritto rolex fuori anche se questo non è un rolex non lo so 400 mi sembrano tanti però la revisione di un cronografo non costa poco è non è che te la cavi con 50 euro ecco io presumo che 400 siano tantini però eri anche libero di rifiutare il preventivo casomai no ormai è fatta la frittata è fatta comunque uno si informa senza aspettare di fare il video da mandare a davide no io faccio la recensione faccio la revisione la pago 400 poi mando il video a davide gli dico se ho fatto bene minchia andiamo avanti così il mondo va a scatafascio eh vabbè comunque ho fatto per l'anniversario vetta un bello orologio sinceramente funziona bene bene dai tac passiamo al secondo è un come puoi vedere un Hamilton ma che c'è molto da dire il tecnico sei te sono io praticamente titanio ottimo orologio tiene sempre benissimo il tempo veramente Hamilton mi sono sempre trovato bene sempre detto io questo è il mio terzo orologio è stata anche una delusione un lockman delusione carbonio praticamente dopo circa due anni che ce l'avevo si è spaccata la cassa bene però era ancora in garanzia me l'hanno sostituito gratuitoalmente poi un mese e mezzo fa si è rotta la molla bene i due perni mi è costato altri 140 euro bene e effettivamente per un orologio che non ha neanche due anni e qualcosa due anni e tre due anni e quattro mesi è stata un po' la delusione perché per quello che è costato è vero che anche questa è una serie limitata però vabbè tuttavia mi è piaciuto mi piacciono le serie limitate bravo poi abbiamo uno piglia le serie limitate anche della merda tanto uguale basta che è serie limitata no cosa ci vuoi fare un mio amico aveva l'ha lasciato gli avevano regalato l'ha lasciato nel cassetto per dei mesi dei mesi e non vi dico cosa è successo perché se no mi mandano la lettera dell'avvocato un'altra volta dai un altro ottimo orologio uno scuba emilton questo guarda niente da dire guarda l'ho portato in immersione fino a 22 23 metri preciso nessuna condensa un ottimo prodotto a emito e certo abbiamo già detto prima mi auguro che qui non parta la soffecca è un meccaniche veneziane forse un errore però ho preso scontato nuovo e un arsenale vedo che in questo momento li vengono a parecchi soldi addirittura l'ho trovato su un sito a 980 dollari e vabbè dai comunque fa la sua figura buono un po pesante un po grosso però è un bel orologio poi seguendoti in questi ultimi mesi ho preso questo bellissimo seiko sport il secco 5 veramente un ottimo prodotto anche ma c'è tutto cioè veramente il rapporto qualità prezzo è eccezionale eccezionale mi sono provato benissimo veramente un bel prodotto una buona qualità la seiko è il primo che compro dopo che ho visto un paio di video ho deciso di acquistarlo e ho fatto un ottimo un ottimo affare scontato anche in questo l'ho comprato nuovo io ho compro solo orologi nuovi per il momento con seiko non si sbaglia mai questo è il penultimo che ho preso spero che qui mi spiace un bel top perché mi sono venduto un polmone quasi mezzo per questo tizio veramente anche questo un ottimo orologio mi piace un casino il colore dello schermo vabbè qua non rende schermo lo schermo lo so che tu sei un esperto sai di cosa sto parlando e mi auguro che qui non parta la soffieca l'ultimo mio acquisto è questo ma l'ho preso per lavorare un sector praticamente non limitate un materiale riciclato anche questo l'ho pagato praticamente la metà dal prezzo di listino perché appunto era era scontato ma anche scontato non vale i soldi che l'ho pagato ok va bene grazie alla prossima ciao ottimo lavoro eh complimenti yeah tac top ha messo anche il top perfetto finito è finito insomma hai fatto degli acquisti convinti il break che non vale la metà quell'altro forse un errore quell'altro ti si è spaccato insomma poi ti sei ripreso perché c'è un paio di Hamilton anche un tisso che hai venduto un polmone e detto no va bene dai ognuno acquista le cose che preferisce è giusto che provi un tipo di orologio un marchio un altro uno stile e poi dopo nel tempo poi si cambia anche nel tempo quindi non è che tutto quello che è nero adesso non mi piace vedrai che fra due anni dirò come sono belli gli orologi neri hai capito si cambia non è che bisogna sempre stare a prendere le cantonate che io le prendo le cantonate le prendo le prendo bravo sei stato anche simpatico bel video attendiamo l'evoluzione della collezione nei prossimi mesi va bene ciao Davide ciao Filippo da Milano Filippo tanto ti faccio i miei complimenti per il canale come ti fanno tutti grazie e ti ringrazio per avermi trasmesso questa passione per gli orologi per insegnarmi quasi quotidianamente qualcosa di nuovo ma va bene partiamo con la collezione la collezione veramente esigua saranno quattro orologi povero e niente partiamo subito allora questo qua il mio primo orologio è un Tissot T-Touch ma fu già un orologio che mi è stato regalato alla Cresima da mio zio in quel periodo dove vidi praticamente tutti i miei compagnetti elementari arrivare a scuola con l'orologio nuovo come regalo della Cresima e decisi di farmene regalare uno anch'io bravo e mio zio mi regalò questo appunto questo Tissot T-Touch aveva appunto la particolarità di questo orologio che appunto aveva lo schermo lo schermo il quadrante touch dove cliccando praticamente in una delle funzioni qua citate potevi aprire la funzione stessa e veniva fuori qui c'è lo schermino ecco mettiamola così l'ho usato veramente tanto negli ultimi 4-5 anni finché poi non si è fermato adesso dovrò cambiare la batteria la batteria ti frega visto che ti lascia a piedi e ti la vuoi cambiare ma lei non vuole essere cambiata perché la batteria è acida e adesso ti rilascia l'acido una volta che rilascia l'acido poi butti via anche l'orologio la batteria con il countdown to extinction anche giusto per tenerlo funzionante in collezione perché è un orologio al quale sono legato visto che di per sé è quello che ha fatto un po' scattare la miccia ecco la miccia miau secondo orologio è un orologio che uso tutti i giorni un orologio al quarzo ed è questo Casio piccolino se non ero pagato un centinaio di euro sì cosa così cosa del genere è un orologio che uso veramente tutti i giorni con il datario molto utile per il lavoro che faccio e niente praticamente mi trovo molto bene alla fine la qualità è quella di un orologio di un centinaio di euro ma fa il suo lavoro nel senso fa su fa su finché funziona e la batteria non ci lascia a piedi aspetta è più che utilizzabile va bene si vedrà va bene terzo orologio quello con il quale ho iniziato ad approcciare al mondo degli automatici un orologio che mi dà un sacco di soddisfazioni e spero di ricevere un toppettino dai magari non un top grande ma un toppettino è questo Tudor Royal 41 mm di diametro cassa datario a ore 3 il giorno appunto ore 12 e un orologio che mi dà un sacco di soddisfazioni scarta forse se va male 5 secondi al giorno e monta il calibro T603 che poi è una rivisitazione del Sleet SV230 se non erro però mi piace veramente un sacco e sono veramente fiero del mio acquisto del mio primo acquisto di orologi automatici è un mucchio di numeri romani quarto e ultimo orologio è un regalo che ho ricevuto appunto al mio 24esimo compleanno ed è un orologio che hai recensito anche te all'interno del tuo canale ed è questo Hamilton bello pilot 38 mm di diametro cassa un orologio veramente veramente bello dà un sacco di soddisfazione mi piace un sacco tra l'altro è un orologio che appunto guardavo da tempo avrei voluto acquistarlo e mi è stato regalato dalla mia ragazza brava e dai miei amici visto comunque il costo non troppo non troppo basso ecco però comunque per essere un regalo di compleanno diciamo che diciamo che ho fatto un gran bel lavoro eh certo l'orologio che mi piace veramente un sacco con questa con questo quadrante tra virgolette un po' vintage un po' retro come stile ma della qualità costruttiva veramente ottima fondello a vista movimento H10 scarta pochissimo ogni giorno forse 3-4 secondi al giorno se va male corona cipolla e questo qua mi piace veramente tantissimo yes intanto ti ringrazio eh prego e volevo chiederti con un budget circa di di 1000 euro più o meno 1000-1200-1500 massimo potrei spendere qualcosina di più in realtà lo stile che vorrei nel prossimo orologio nell'acquisto del prossimo orologio è quello un po' del del Longin Hydro Conquest che mi piace tantissimo dai mi pare venga sui 1900 quello o qualcosa del genere e vabbè magari per quello potrei fare uno sforzo in più a spendere qualcosina in più comunque di per sé è un orologio che mi piace veramente tanto su quello stile lì cosa mi consigli se hai qualche consiglio o se dici visto che il Longin Hydro Conquest è tra virgolette quello che hai puntato magari di risparmiare un pelino di più e puntare a quello ti ringrazio ciao e complimenti ancora complimenti anche alla tua collezione perché perché va bene per aver iniziato va bene a parte il T-Touch che ce l'aveva anche un mio amico lo ho già raccontato altre volte ha smesso di funzionargli il il touch screen qua è è un casino la riparazione ha speso un sacco di soldi ti è solamente scomparsa la batteria magari con poco risolvi il caso di Faisal Quarzo va benissimo come orologio a tutti i giorni bel quarzetto io uso per esempio anche il Time Expedition un Kaizo così va benissimo gli altri due automatici sono dei signori orologi ora ti chiedi qualcosa e infatti quando ti mi hai detto vorrei un orologio io da me ho pensato gli manca un diver non ha nemmeno un diver un orologio sportivo con ghiera no e poi dopo ti hai detto che ti piace l'Hidro Conquest o roba del genere ok intorno ai mille la scelta non è ampissima cioè è ampia se includiamo anche micro brand è ampia però mi viene in mente quando ti metto intorno ai mille euro un diver a me mi viene in mente IEMA a me mi viene in mente un orologio di IEMA intorno a quella cifra lì è tanta roba oppure c'è un altro Hamilton ma te Hamilton ce l'hai già si cerca anche un po' di diversificare a livello di marchi no la diversificazione quindi il Tissot un Tissot Sistar anche quello non costa molto molto di più di mille euro lo fanno anche Cosca addirittura figurati poi se ti piace il Login Hydro Conquest è ghiera ceramica quello lì nuovo ti consiglio di risparmiare qualcosina cioè sei anche al punto che non hai la possibilità di cioè non hai proprio materiale da vendere per poi rimetterci sopra e prendere perché uno è un regalo il Tudor l'hai preso da poco è anche un bello orologio da tenere gli altri due valgono quello che valgono cosa ci fai 50 euro 40 tanto vale tenerli quindi non sei nella condizione di poter dire ne vendo uno ci metto sopra e ne piglio un altro quello è un po' una base un materasso di chi ha una collezione un po' ampia anche di orologi da 500 600 1000 euro che poi a un certo punto se ne vuole comprare uno da due o tre ne vende uno da mille e ci mette sopra qualcosa capito ti invece sei ancora un po' all'inizio comunque l'Hidro Conquest è promosso andare sotto c'è IEMA c'è un Hamilton c'è T-Saw anche Mido Mido l'Ocean Star abbiamo visto anche qua nel video il Tribute non so non mi ricordo quanto costa ma è bello anche quello ce ne sono anche altri di marchi microbrand c'è Faders che sono belli c'è Alemano che sono belli c'è Verywatch lì siamo più sullo Skin Diver però se vuoi qualcosa come l'Hidro Conquest di contemporaneo è più Faders va bene dai ho detto anche troppi nomi poi basta che guardi anche i video che sono su Youtube di Oroji di Diver da 1000€ o sopra ce ne sono una marea cioè devi un po' dopo arrivare a decidere te però mi sa che hai già deciso per l'Hidro Conquest ho parlato anche troppo boh 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 mi sembra di aver detto tutto veramente vi ringrazio per essere arrivati fino a qua spero vi siano piaciuti i video il presentatore il contesto e il video in generale se così non fosse me ne dispiaccio ma me ne farò una ragione e vi ricordo gli appuntamenti fisiche come sempre sono quando voglio io il più spesso possibile qui su Youtube Love